L'Ireo Nicola, Sperame, SCTV. Perché è giusto abolire il valore legale dei titoli di studio? Perché un professore non è uguale all'altro e quindi tu devi sapere a chi ti rivolgi e i sacrifici che devi fare per avere la formazione migliore. Un valore, un titolo di studio che ha lo stesso valore indipendentemente dal posto in cui tu l'hai preso camuffa delle differenze. È vero che nella Costituzione si parla di leicità o si intende qualcos'altro? No, nella Costituzione non si parla di leicità, si parla di libertà religiosa, cioè del fatto che c'è bisogno che tutti i credenti manifestino in pubblico i contenuti e le opere della loro fede. Perché nel nostro paese non si vuole parlare di libertà di scelta? No, parlare se ne parla, perché non si può esercitare, perché dovendo pagare le tasse per la scuola statale, chi vuole scegliere la scuola per i propri figli deve pagare le tasse due volte. Qual è la differenza tra libertà di scelta educativa e mercato scolastico? La stessa cosa detta in due modi, c'è mercato scolastico quando ci sono diverse offerte scolastiche in competizione l'una con l'altra e quando gli utenti della scuola, studenti e genitori, possono scegliere di quale offerta scolastica avvalersi senza aggravio. Lei è di Nicola, speriamo in CCTV.